Eccoci ragazzi, allora vi faccio mattinata movimentata, oggi facciamo un solo video così cerchiamo di affrontare tutti, ma proprio tutti i temi di questa mattinatina, di solito si dice seratina, questa invece è una mattinina, una mattinatina. Allora, al di là delle battute dello stemperare, vi faccio due premesse, la prima è che proprio in questi giorni nella lenta uscita dalla bolla dello scudetto, pensavo a quando Paolo Maldini aveva fatto quella dichiarazione molto diretta, come è sempre stato nello stile sia del calciatore che dell'uomo che del dirigente su Rangnick nel cuore del problema e come sia stato soprattutto importante che Stefano Pioli sia rimasto nel suo Milan e ci abbia dato tutto quello che ci ha dato. Devo confessarvi che in quei giorni li ricordo molto bene, erano i giorni di inizio lockdown, non c'erano ancora le mascherine, si andava da un piano all'altro di casa Milan con molta prudenza, però in quei giorni del febbraio-marzo del 2020 avevo ampiamente verificato che il destino di Stefano Pioli era totalmente nelle sue mani e che se Stefano Pioli avesse fatto bene dopo il lockdown avrebbe avuto tutta piena, tutta aperta la possibilità di rimanere al Milan. Questo è quello che avevo verificato ai diversi piani, ai diversi livelli dirigenziali del club ed è importantissimo che questo sia accaduto. Vi ricordo intanto OneFootball, OneFootball con la sua app, OneFootball con i suoi contenuti, OneFootball con il suo calcio in streaming, OneFootball con le sue partite, scaricate l'app di OneFootball, è gratuita, la trovate nel link alla descrizione di questo video, l'app di OneFootball vi aspetta. e ricordo che feci tutto il possibile in maniera amichevole e informale, evidentemente, le uniche cose che ho l'onore mi siano consentite di farlo presente in quei giorni a Mister Pioli. Quindi certamente ebbe grande coraggio, grande schiettezza Paolo Maldini nel sostenere da dirigente del club la sua posizione. Certamente ci fu in quei giorni anche la capacità e l'abilità di Ivan Gazzidis di Mediale, fra la proprietà che aveva stimolato dopo il 5-0 di Bergamo un cambio non di Pioli, ma un cambio complessivo di visione, e la bandiera, la dirigenza sportiva che invece ribadiva la sua fiducia e la sua totale apertura nei confronti di Stefano Pioli. E la duttilità, la capacità di mediare i toni suffusi devono far parte del bagaglio e del corredo di un dirigente, sempre. Per questo io onestamente non amo tornare a parlare di Zvone Boban o, sia ben chiaro, ho sempre adorato come calciatore e come persona Zvone Boban. Però ne ho sempre conosciuto tutti i tratti della personalità. Quando Zvone Boban ha ricevuto l'importantissimo incarico dirigenziale che ricordate tutti nel Milan, fui fra i primi a congratularmi in maniera sincera, in maniera aperta, in maniera totalmente amichevole. Però penso anche, dopo qualche anno, se me lo consentite di esperienza, penso anche che il tono voice di un alto dirigente di un grande club debba avere certe caratteristiche. e l'opinionista ruvido e giustamente provocatorio, ha successo nella vita per la chiarezza con cui si esprime e ha successo in tv, l'abito del dirigente, non dico che sia un po' più continuo sfogo in pubblico e in privato a tutte le proprie caratteristiche, a tutte le proprie convinzioni e a tutti i propri pensieri. Per cui, ecco, avendo vissuto sulla mia pelle il Milan delle fazioni e avendo vissuto con amarezza quelle tensioni, Milan delle fazioni di anni fa, sulle quali non torno. E avendo vissuto anche l'amarezza di quei giorni pesanti, ricordo dopo Fiorentina-Milan, la descrizione, una parte della dirigenza esce dallo stadio prima, l'altra parte della dirigenza dopo. Ecco, io vi parlo sempre di compattezza e la compattezza è il mio mantra. La compattezza è assolutamente fondamentale e un grande club non può non essere compatto. La compattezza è assolutamente fondamentale, la compattezza è che deve essere il top club, deve essere, chiedo scusa, il top player di un grande club. La compattezza è fondamentale. L'altra premessa che vi faccio, questa è stata già un po' lunga, quindi vi minaccio un lungo video, l'altra premessa che faccio è che, cavolo, qui a Milano evidentemente siamo proprio abituati a farle durare poco le feste, perché anche l'anno scorso i nostri avversari cittadini, pochi giorni dopo la festa Scudetto, la fine del campionato erano già alle prese con il caso Conte, noi oggi siamo alle prese con l'intervista di Paolo Maldini, però sono due cose completamente diverse, perché le posizioni di Antonio Conte erano particolarmente distruttive, quelle di Paolo Maldini sono quelle di Paolo Maldini e in ogni caso ricordo a tutti che l'intervista, la prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi parla di capolavoro Milan e c'è tanto amore per il Milan, per i giocatori, per il club che siamo da parte di Paolo Maldini in tutta l'intervista. Quindi non facciamo di ogni erba un fascio, è chiaro che poi quando ci sono alcuni passaggi vengono pesati e vengono amplificati, questo lo so perfettamente e lo capisco perfettamente, io infatti non mi permetto di entrare nel merito delle parole di Paolo Maldini, non mi permetto assolutamente, così come non mi permetterei e lo dico chiaramente, apertamente a tutti voi, di entrare nel merito delle dichiarazioni di nessun dirigente del Milan, è giusto che ve lo dica, però la cosa che posso fare è entrare nel merito delle reazioni, perché le analizzo, le misuro, le controllo, le verifico, le sento sulla pelle, mi arrivano dei tifosi e dell'opinione pubblica rispetto alle dichiarazioni di un dirigente del Milan. E questa mattina ho visto proprio nei commenti Twitter degli opinionisti, dei giornalisti, dei critici, la fine della festa e il ritorno ai casi, e un po' di inquietudine che è quella che onestamente avverto di più e sento di più e mi preoccupa di più, perché le onde della critica rispettabilissime, sempre grande fonte di dubbio vanno e vengono. Le inquietudini dei tifosi mi spiacciono, perché i tifosi vogliono le loro certezze e insomma dal loro punto di vista volevano continuare a essere il mulino bianco ancora per qualche giorno. Ora non è necessario essere il mulino bianco, perché in una grande azienda, in una grande società di calcio è giusto che ci siano confronti aperti, anche qualche tensione che deve essere tutta finalizzata al risultato finale. Io sono convinto e sono certo che Paolo Maldini abbia parlato per il bene del futuro del Milan e quindi al di là della questione personale riguardo al suo contratto, ed è una questione che credo in questo momento riguardi tutti i dirigenti del Milan, nessuno escluso da Gazzidi in giù, tolgo evidentemente le cariche presidenziali e del CdA, però i dirigenti operativi mi sembra che siano tutti nella stessa situazione, però ciascun professionista, perché ogni alto dirigente è un professionista, parla delle proprie e affronta le proprie vicende contrattuali come meglio crede, come meglio ritiene opportuno, nessuno di noi può permettersi di entrare nel merito della vicenda contrattuale di nessun professionista e quindi io non conoscendo le questioni e avendo ciascuno di noi la misura e il senso del proprio rispetto non posso permettermi assolutamente di entrare nel merito, dire, fare, valutare. Dico che quello che dice Paolo Maldini è un qualcosa che avevo già riscontrato ad esempio domenica in alcune sfumature delle dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic, ad esempio rese a Milan TV sul progetto, sul futuro, sulla voglia di migliorare. È chiaro che Paolo Maldini prova a non a far finire la festa ma a riportarci a contatto con la realtà, di dire ragazzi facciamo in fretta, è anche un'accelerazione, facciamo in fretta perché questa squadra merita che noi ci si rinforzi, questa squadra merita che noi si dia stimoli ai giocatori, questa squadra merita che, perché più investi su un progetto più dai stimoli ai giocatori, più dai la sensazione che si possa puntare in alto, più si possono conquistare altri obiettivi perché non dimentichiamoci che noi quest'anno abbiamo vinto lo Scudetto, ne siamo immensamente, straordinariamente felici, ma non dimentichiamoci che siamo riusciti a godere anche di alcune situazioni favorevoli che si sono verificate durante l'anno e sono situazioni che vanno da stagione a stagione, quindi noi dobbiamo attrezzarci, lo diceva Ricchi Massara molto bene all'incontro con i giornalisti lunedì il giorno, subito il giorno dopo lo Scudetto, noi vogliamo fare una squadra più forte, questo è quello che vuole fare tutto il Milan, perché lo Scudetto è il risultato finale di tutto il Milan, so per esperienza diretta, per sensazione diretta, tutto quello che anche questa proprietà ha dovuto affrontare, perché questa proprietà ha dovuto affrontare, parla da dirigente alto e maturo Paolo Maldini quando fa il conto entrate e uscite di tutte le campagne acquistiche ha effettuato 75 milioni di euro, ed è una cifra importante, significativa, va anche detto, senza aggiungere o fare la coda o fare la spunta a quello che ha detto Paolo Maldini, va anche detto che i cordoni della borsa erano tirati perché c'era un disastro da mettere a posto, il disastro delle ultime campagne acquisti della storica proprietà Fininvest, soprattutto quella del 2015-2016 che erano fatte in funzione di un cambio di proprietà che si è poi ritardato, quindi parlo del 15-16, parlo del 17-18 che è stato l'anno di Yongongli Fassone e anche del primo anno della gestione Elliot che arriva a luglio 2018 e che inizia a introdurre le proprie linee, la propria visione, la strategia nel luglio 2019, nel frattempo nel luglio 2018 sono state assecondate le linee che c'erano da parte dell'area sportiva dell'epoca e quindi soprattutto Leonardo con Higuain, con Caldara, con Pachetà, con Piontech, diciamo che c'erano tutte queste tre cose da mettere a posto, per cui è vero che Paolo Maldini e Ricky Massaro hanno dovuto lavorare più con le idee che con i soldi, assolutamente vero e ineccepibile, ma naturalmente tenendo conto del fatto che poi c'erano i manager, i dirigenti, la proprietà e il management che doveva, e il board del CDA che doveva affrontare perdite, pregresse clamorose di anni e anni e io trovo che sia stato da record il tempo in cui tutto il Minan si è uscito da quelle secche, pensavo onestamente ci avrebbero messo più tempo, il Milan non è ancora uscito perché siamo ancora in terreno rosso, in terreno passivo, ma certo un terreno passivo infinitamente inferiore rispetto a quello di un paio di anni fa. Ora, io ripeto, senza entrare nel merito, senza giudicare. Il Milan resta un capolavoro, come dice Paolo Maldini nell'intervista del titolo della Gazzetta. Non siamo più al tempo delle fazioni, quindi non è il caso in questo momento assolutamente da parte di nessuno, nessuno lo farà al Milan di fare schieramenti, prendere parti e quant'altro. Il Milan c'è questa accelerazione, c'è questo tema sul futuro posto da Paolo Maldini, il Milan ha la maturità, la visione, la strategia per affrontarlo e per guardare avanti, perché è la cosa che dobbiamo fare. Ripeto, gloria totale e assoluta ed eterna a campioni come Zvone Boba, rispetto per la società che in un momento di forte delusione e frustrazione dopo il 5-0 di Bergamo ha provato a immaginare di fare calcio in un certo modo, ma tornare francamente a Boba Nerangnick, guardiamo avanti, guardiamo avanti che è una cosa bella per merito di Elliot e della famiglia Singer, per merito del presidente Scaroni, per merito di Ivan Gazzidis, per merito di Giorgio Furlani, per merito di Paolo Maldini, per merito di Stefano Pioli, per merito di tutti. Ecco, guardiamo avanti, con quel tesoro che abbiamo in mano, guardiamo avanti. E quindi mi sembra francamente questa la cosa fondamentale da fare. Io ricordo bene di aver percepito l'imbarazzo di Ivan Gazzidis, perché Ivan Gazzidis, per quello che ricordo io, o per quello che avevo avuto la possibilità di verificare, io non parlavo nemmeno direttamente con Rangnick, ma con il suo agente. Per cui non c'era nulla di, per quello che mi risulta, per quello che ricordo, nulla di firmato, nulla di sancito e le continue dichiarazioni che faceva Rangnick imbarazzavano il Milan. Naturalmente l'imbarazzo di Gazzidis, per le caratteristiche e per la persona che è Ivan Gazzidis, era l'imbarazzo di Gazzidis, quindi appena accennato, sussurrato, tenuto dietro le quinte, ma era pur sempre imbarazzo. Ecco, quindi onestamente non tornerei a quei tempi, non tornerei a quei tempi e andrei avanti, andrei avanti con questa politica, con questa visione, con questa mano nel fare la squadra, con questa mano nel fare gruppo. La mano è quella giusta. Il tono di Paolo Maldini è quello di sempre, è quello con cui nel 2002 da giocatore commentava alcune posizioni della Di Galiani dell'epoca, è il tono di sempre, di quando non era coinvolto direttamente nel Milan. Paolo Maldini ha questa schiettezza, ha questa tendenza ad essere diretto che naturalmente chi lavora con lui, chi conosce la sua storia, chi conosce la sua gloria, a sua volta ha imparato a misurare, ha imparato a confrontarsi e quindi naturalmente ci sarà tempo e modo per risolvere e chiarire. L'importante è che siccome adesso abbiamo fatto i nostri core, abbiamo fatto la nostra festa, abbiamo fatto anche un po' di casino e siccome gli avversari si stanno rinforzando, stimolati dalla nostra festa, adesso dobbiamo rinforzarci, quindi costruire la squadra, puntellare quelli che abbiamo, fare un mercato il più possibile importante, perché Stefano Pioli se lo merita. Stefano Pioli ha fatto un capolavoro, io dicevo ieri a Milan TV, nella trasmissione con Pasquale Campopiano e Luca Brivio, dicevo ieri che se questa squadra fosse stata allenata in maniera normale, per maniera normale intendo una maniera ineccepibile, professionale, giusta, ordinaria, per quello che può fare normalmente un allenatore, lo scudetto non l'avrebbe vinto. Stefano Pioli non ha allenato questa squadra in maniera normale, è andato molto oltre, è andato molto oltre nella creazione del gruppo, nella creazione del dialogo, nel feeling con i giocatori, nell'innovazione tattica, nell'evoluzione del sistema di gioco, per cui ecco Stefano Pioli merita, merita che noi si faccia un Milan ancora più forte anche quest'anno. Io voglio tornare a Ferragosto come ho fatto il Ferragosto di un anno fa su Milan News, scrissi il famoso editoriale, me la meno un po' su questo ma concedetemelo perché ci tengo, perché mi massacrate sempre per i miei editoriali, ultimamente no perché ho fatto un po' di poesia, ma quando non faccio poesia mi massacrate sempre. Ad agosto di un anno fa avevo scritto i 10 punti per cui il Milan 2021-2022 è più forte del Milan 2021, in un momento in cui tutti dicevano che il Milan partiva con 10 punti in meno, io dicevo invece che c'erano 10 punti per cui il Milan era più forte. Voglio tornare a tutti i costi, voglio tornare a tutti i costi, a Ferragosto del 2022 a scrivere un articolo, i 10 punti per cui il Milan 22-23 è più forte del Milan 21-22 e prego tutto il Milan di consentirmi di arrivare a quel momento con la stessa possibilità che avevo visto e mi ero ritagliato un anno fa. Forza ragazzi, ciao a tutti, a domani.